Questa sera è il momento di accogliere qui sopra al palco il nostro caro amico, soltanto 13 anni appena, Giovanni Carlini. Questa sera è il momento di accogliere qui sopra al palco il nostro caro amico, un'altra cosa di accogliere qui sopra al palco il nostro caro amico, un'altra cosa di accogliere qui sopra al palco il nostro caro amico, un'altra cosa di accogliere qui noi postiamo al palco il nostro caro amico, Grazie a tutti. Grazie a tutti.